Io ho una teoria, ditemi se è giusta, guardandomi intorno mi sono reso conto che gli anziani che hanno preso la pensione per dedicarsi a qualcosa che li appassionava, un hobby, un'attività, molti ad esempio fanno i contadini praticamente, hanno sempre sognato di lavorare a terra però hanno fatto un altro lavoro, una vita e si sono messi a fare i contadini e quelli lì, quelli reggono, cioè sono in gamba, vivono meglio di come erano prima, alcuni ad esempio sono messi a fare ciclisti, pensate a 60 anni fare ciclisti, 65-70 anni e ne conosco e fanno ciclisti oppure altri fanno, non lo so, qualunque altra cosa, addirittura lavori faticosi che uno dice non dovrebbe fare nemmeno un giovane ma magari hanno questa passione e la fanno e si mettono a creare, a intagliare, a innovare, a inventare, a costruire tutte cose che uniscono mente e la rapidità delle mani per fare delle cose, queste persone hanno la vecchiaia felice più degli altri e spianata mentre ci sono persone che purtroppo conosco che sono messi peggio proprio perché hanno avuto nel momento in cui sono andati in pensione un crollo e questa è una cosa tipica, mi hanno detto che succede spesso, quindi gli ho aumentato il colesterolo, sono aumentati di peso, sono gonfiati, si sono fermati e hanno detto ah io ho la pensione, sono a posto quando ho detto sono a posto si sono ritrovati un peggioramento nettissimo della salute e alcuni anche hanno goduto pochissimi anni di pensione perché si sono trovati subito a crollare fisicamente ed è un vero peccato perché è come se avessero dedicato tutta la vita all'obiettivo di andare in pensione, raggiunto l'obiettivo si fossero rilassati, fossero fermati sul divano si fossero limitati a vedere ad esempio lo sport in televisione, queste cose qui, andare al bar e quello li ha completamente stravolti dal punto di vista fisico e portati ad un deperimento rapidissimo anche dal punto di vista cognitivo, è un vero peccato che questo sia avvenuto e si sono trovati deboli e non più in grado di fare quello che facevano anche pochi mesi prima ecco io vi do un consiglio, se voi non vedete altro che la pensione, siete lì per la pensione andate in pensione, va benissimo perché anche io se mi dessero l'opportunità di andare in pensione vado in pensione ma ad esempio faccio il contadino, i contadini la fortuna che hanno è che quando vanno in pensione non è che vanno in pensione, continuano a lavorare esattamente come prima e questo è molto interessante, molto buono perché effettivamente gli permette di rimanere attivi e di fare più o meno la stessa vita con in più quell'entratina della pensione che magari gli permette di avere degli sfizi ecco, e però continuano a svolgere un'attività parallela a quella di prima ovviamente un po' più ridotta, un po' più tranquilla, senza mai, senza correre troppo senza stressarsi troppo, però continuano anche la loro attività precedente questo succede molto alle partite IVA, agli artigiani, a tante persone che lavorano in proprio mentre i lavoratori dipendenti hanno questo stacco che è un po' troppo incisivo, uno scalino troppo alto e si trovano effettivamente a un cambio di vita troppo repentino che li porta a fermarsi e da non avere più nulla da fare, a passare il sabato mattina al supermercato a fare una vita noiosa, senza prospettive, senza... alcuni mi dicono nel gruppo Telegram, amici di Fulgenza ne stiamo parlando quasi come se stessero lì a aspettare la morte il problema è che se fate così, la morte arriva prima questa non è assolutamente una mia teoria, è supportata da delle prove, insomma, abbastanza robuste che potrete andare a consultare, perché ci sono degli studi andateli a vedere e se uno vive la pensione così, è come se si scavasse la fossa da solo quindi secondo me dovete progettare le exit strategy dal lavoro se avete la fortuna di essere lavoratori dipendenti e quindi avere una pensione abbastanza consistente perché i lavoratori dipendenti hanno una pensione più consistente e i lavoratori che invece hanno una partita IVA spesso hanno una pensione molto ridotta che magari è 6-700 euro quindi per forza di cose sono costretti a lavorare mentre i lavoratori dipendenti effettivamente hanno pensione gli permette di vivere dignitosamente e dicono, vabbè, sono a posto così tanti saluti si ritrovano 10 kg di più dopo pochi mesi della pensione e non sanno più che pesci pigliare, no? e dovete pensarci prima dovete creare una exit strategy trovare un hobby qualcosa che vi interessa, veramente qualcosa che vi muove l'anima, capito? ecco, e tirarla avanti, portarla fuori iniziare già prima quando siete lì pronti a mollare il lavoro perché se voi vi credete di dire ora io mi riposo è la scelta più sbagliata che potete fare perché molti dicono ah io ora mi riposo non voglio più avere a che fare con nulla non voglio più fare nulla mi godo i nipoti questa è una bella cosa ovviamente godersi i nipoti dedicare più tempo a nipoti però non è sufficiente a mio parere a garantire una vita attiva perché sì, se avete 10 nipoti va benissimo dedicate il tempo a 10 nipoti e sicuramente state tranquilli che avrete la vita più attiva di prima va benissimo ma se avete una vita con magari un nipote magari anche lontano non lo vedete spesso e non contate su quello dovete inventarvi qualcosa per voi qualche cosa che copra il vostro tempo libero magari diventate scrittori iniziate a leggere di filosofia andate all'università ecco una cosa che auguro a degli operai che vanno in pensione iscriversi alla facoltà di filosofia dell'università che vi servirà anche per prendere meglio la pensione con maniera filosofica ma vi sto dando degli spunti ma non sto scherzando qualcuno lo fa veramente credo sia una cosa fantastica non lo so ditemi voi nel gruppo Telegan amici di Fulgenzio come volete preparare la vostra ex strategi verso la pensione oppure a chi è già in pensione come l'ha presa come si è gestito o a quelli che hanno deciso di non fare nulla se effettivamente la loro situazione fisica è peggiorata sono trovati peggio ad avere insomma delle difficoltà fisiche prima non avevano ditemi voi perché è una cosa anche questa da gestire nel gruppo Telegan amici di Fulgenzio perché qui possiamo parlare di tutto questa la sezione sarebbe sempre vita pratica contadina e sopravvivenza e qui è la sopravvivenza alla pensione che ci interessa che ci raccontiate la vostra sopravvivenza alla pensione pensateci siete stati in grado di avere uno scalino dolce alla pensione senza essere travolti da uno stile di vita troppo lento sedentario che vi ha distrutto il fisico oppure siete riusciti a trovare delle sistemazioni degli hobby delle nuove sfide da condurre anche quando è arrivato il momento della pensione tanto agognato da una parte ma dall'altra una incognita che deve essere gestita che altrimenti se no è una spada che altrimenti è qualcosa che grava sul vostro futuro fatemi sapere sempre nei commenti e nel gruppo Telegram amici di Fulgenzio che metto in descrizione arrivederci iscriviti al canale youtube chiocciola l'eremita è gratis e attiva la campanellina per non perdere nessun video